Posso vedere il GM che fa Lucio? Cioè uno di voi, secondo voi, siete tutti più forti di quello lì? Sicuro, sicuro, no, no, no. E' colpito qualcuno. Bello. E' vabbè. E' vabbè. Niente, non è riuscito a mettere quel cazzo di bull all'istante. Ciao Whiston, anche tu sei fortissimo, vero? Porca puttana, McCree. Ma cosa? Ero in volo mentre... Non ero neanche lì, non ero. Guarda! Che va, tempo ritardato. Grazie. Grazie. Come cazzo mi hai colpito? Si è messo libero a posto di McCree. Allora, amico. Ti volete mettere un cazzo di healer? Ma uno di quei due deficienti che non sanno mazzare una fara da mezz'ora. Dai, cazzo, c'è un'affare che rompe il cazzo. Eeeeh, Uriza. Eeeeh, Uriza. Non ti ero su miga adesso. Ripersa in una posizione del cazzo. Non ti posso aiutare. Ringrazia. Sei andato... Perché state pushando come matti? Perché pushate come delle merde quando dovremmo stare indietro? Questo sei ricambiato in tracer, sì. Ah, c'era un top 500 di like. Chi l'aveva notato? Perché... Ehm... Ehm... Ovviamente c'è l'affare che nessuno ha capito che ci fosse, no! Che cazzo è andata quella? Ho esagerato! Ho esagerato! Mi sono addosso! Dov'è? Ha! 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 Ok... Eh, Guido? Troppo. Troppo. un po' o devi agarare un apollino, no? Oh, no. Porca puttana Avete esagerato adesso Bravi Buono buono Addirittura farà puttizzata da Ana e puttizzata da Mercy Porca poi mi ha asciuttato 200 di danno in un colpo Vai a fare danno Perché ho bisogno della tua Ho bisogno dei tuoi danni Cioè che tu fai danni Potenziamento dei danni attivati Grazie per l'altro Hmm La tua prestazione sono al massimo Grazie per l'altro Ufff Che fatica raga C'è ancora una tresor che rompe il cazzo Quando può Ah 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 Do cazzo son volato Non stavo guardando dove fosse Via via da qui via Mi servi tu che sei più vita Niente Te le varga andato Basta che minchia di giro hai fatto Ah si è fermato lì L'ha data per persa Va bene Spara qualche razzo dai Adesso hanno un secondo healer Quindi io posso anche star su Ti ho perso Ti ho perso Ti ho perso Ti ho perso Mi sono tosse Grazie Dicevo Ottimo Ottimo Che fatica Io spero che mi fate un monumento Se vinciamo Avrei fatto tutta una fatica Per Per tenervi su Porca troia Dai Guido Guido ammazzarne uno subito Sparalo almeno un colpo Non ti chiedo tanto Spara un colpo Spara una Spara un colpo Spara un colpo Spara un colpo Di Sì Grazie a tutti. Sì, ma non ci devo stare io! Qualcuno mi viene qui che... Vaga, non posso stare io... Qualcuno ragioni, porca, di quella troia! Sono io che devo stare sull'obiettivo? Tanto siete tutti one shot, è l'unico che deve stare sull'obiettivo Lillard, ma siete sceme allora! Tieno su quel cazzo... L'obiettivo perché nessuno lo sta portando avanti, dai! Tutti a pushare, nessuno porta avanti l'obiettivo! Sì, ma non ci devo stare sull'obiettivo, non ci devo stare sull'obiettivo! Sì, ma 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 non ci devo stare sull'obiettivo! Ma vaffaculo, ma... Ha fatto per cinque minuti, l'ha fatto! Ma fottiti, ma... Grazie per aver seguito il video! Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere! Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto! E noi ci vediamo alla prossima! Ciao!